Bella ragazzi, qua è Ghiott, signore, ormai ci stiamo abituando bene, anche per Mohamed Faresse è tutto fatto, arriverà a Roma tra oggi e domani, invece Murici è atteso tra domani e giovedì perché c'è la questione tampone, dato che viene dall'estero, comunque il video su Murici l'ho fatto ieri, l'ho trovato in alto a destra nelle schede, ma oggi parliamo di Mohamed Faresse, ragazzi, finalmente si è chiuso, era un ruolo fondamentale all'esterno sinistro, era una priorità, viste comunque le condizioni di Lulic, Lukaku che non convince, Johnny che verrà spostato da mezzala, quindi era necessario prendere un esterno con quelle caratteristiche, poi vedremo, certo, se Faresse sarà all'altezza di giocare nella Lazio perché lui ha giocato dal 2014 al 2018 nel Verona, 56 presenze e 0 gol, mentre negli ultimi anni, negli ultimi due anni della sua carriera ha giocato alla Spal 38 presenze e 3 gol, purtroppo ha avuto anche tanti infortuni perché se noi guardiamo in 6 anni ha fatto solo una novantina di presenze, presenze che sono poche, quindi è stato fermato da un'infortunia anche grave, però incrociando le dita, sperando non li capiti più, un giocatore secondo me adatto a fare quello lì perché ha grande gambe, un 83 molto veloce, ha anche una grande resistenza, cosa che non aveva Johnny, perché Johnny magari qualitativamente come piedi è anche più bravo di Faresse, di Lulic, di Lukaku, però era troppo leggero, non riusciva a coprire tutta la fascia, Faresse invece secondo me lo può fare bene, quindi io comunque ho grande fiducia su questo calciatore, certo non l'abbiamo mai visto in una grande squadra, quindi a Verona ne hanno parlato bene, con la Spal ne hanno parlato bene, ricordo che la Spal quando aveva Lazzari e Faresse sulle fasce era una Spal che era più o meno a metà classifica, la grande Spal di semplici, senza Faresse e Lazzari la Spal è retrocessa, quindi qualcosa vorrà dire, quindi io parto sicuramente fiducioso, lo sostengo come tutti i giocatori che vengono alla Lazio, so che c'è molto scetticismo ed è normale, perché quando un giocatore viene dalla Spal è ovvio che il naso lo storce un pochettino, anche perché quest'anno, ricordiamo, abbiamo la Champions League, quindi è normale che anch'io avrei preferito prendere un Emerson Palmieri, un Marco Salonso, un giocatore più di esperienza, però ragazzi è arrivato Faresse, era una scelta di Inzaghi, quindi questo è un fattore comunque importante, il giocatore comunque ricordiamo è classe 96, è quindi 24 anni, ancora ampi margini di crescita e va a ricomporre appunto il duo Spallino, Lazzari a destra e Faresse a sinistra, quindi speriamo che Faresse segua le orme di Lazzari, anzi faccia ancora meglio, quindi ditemi anche alla vostra nei commenti se vi piace, chi avreste preferito magari al suo posto, però ragazzi sosteniamo Mohamed Faresse, le cifre dell'affare 8 milioni e mezzo più 1 e mezzo di bonus, quindi 10 milioni, forse sono troppi? Può darsi, perché comunque è anche riduce da un infortunio, però ragazzi i prezzi ormai sono questi, Lottito ha trattato a trattato, la Spall era partita addirittura da una richiesta di 11-12 milioni, alla fine si è chiuso sui 10, che vabbè comunque è un giocatore giovane, ripeto classe 96, quindi ci sta la cifra secondo me, più o meno vedendo le cifre che girano nel mercato di oggi è una cifra assolutamente congrua, a parer mio. Quindi, chiusi l'affare di Mohamed Faresse, io volevo fare anche un pochino un bilancio sul mercato della Lazio, perché io ho visto molto scetticismo, negatività anche da parte mia, perché poi sono il primo che ovvio quest'anno ci aspetta una stagione importante, quindi sono un po' preoccupato. So che la Lazio ha bisogno di 4-5 giocatori di qualità da aggiungere alla Rosa, per ora sono arrivati Reina, che io considero un ottimo acquisto, Escalante, ho grande fiducia su Gonzalo Escalante, Murici, che in teoria è il grande colo, perché abbiamo speso quasi 20 milioni per vedate Murici, quindi speriamo, rispetti le aspettative. Ricordo che il secondo acquisto più caro dell'era lottito dopo Mauro Zarat è poi questo Faresse. Quindi 4 acquisti, diciamo 2 potenziali titolari come Murici e Faresse, 2 giocatori che possono essere delle importanti riserve, degli importanti uomini spogliatoio come Gonzalo Escalante e soprattutto Pepe Reina. Ora ovviamente manca ancora il difensore centrale, so che la Lazio sta provando per Marash Gumbulla, speriamo, sapete che il mio desiderio è Vittar Tasso con questo Gumbulla da tre mesi, speriamo arrivi e poi io spero ancora un attaccante, perché ammesso che vada via Caicedo serve comunque un quarto attaccante e Inzaghi l'ha richiesto. Bastos dovrebbe ormai, tra poco saluterà e andrà verso la Turchia, quindi salutiamo anche Bastos e ragazzi vi do appuntamento questa sera, segnatevelo, mi raccomando, ore 21.30, live qua su YouTube con Alfred Speciale Calcio Mercato. Quindi parleremo di tutto, un'ora, un'ora e mezza, mi raccomando non mancate, quindi iscrivetevi al canale se siete nuovi e se già siete iscritti controllate di attivare la campanella, perché YouTube fa un po' le bizze e poi non vi manda le notifiche. Però, mi raccomando, vi lascio il link Instagram in descrizione, seguitemi, così lì vi avverto sia quando esce una live, quando esce un nuovo video e in più vi tengo aggiornati su notizie in tempo reale di Calcio Mercato e non solo, quindi mi raccomando, fate. Ragazzi, che dire, un bel like, un bel commento, supportiamo il canale e ci vediamo questa sera. Bella!